San Martino di Castrozza, Hotel Viena. Questa è la vista da un balcone. Ci abbiamo pure un altro balcone. Molto carino. Siamo a Rifugio Tognola, 2200 metri di altezza. Siamo a Rifugio Tognola, 2400 metri di l'IA. Ci sono una buona, tutte le fanno in Italia. Qui si sente un buono ? Come un buono ? Si, chi senta. Con l'Europokè, non chiamo. Grazie a tutti Moena, escursione a Moena Grazie a tutti Ciao ragazze, avete mai pensato di come idratare i capelli? Perché spesso si sentono come idratare il corpo con l'acqua, il viso Io ho trovato questo prodotto da Nuskin È un tubetto di 250 ml e mi trovo molto bene Appena rientrato sia dal mare che dalla montagna Spruzzo un po' sui capelli e li lascia morbidi e lisci Li idrata subito al momento Non rovina la piega, ovviamente non dobbiamo esagerare Se volete prendere questo prodotto Vi lascio il link qua sotto E tramite quel link avrete uno sconto del 15% Mi raccomando ragazze, abbiate cura di voi Ciao 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 ragazze Sono a San Martino di Castrozza E anche se fuori sono 14-15 gradi Ci dobbiamo sempre ricordare di proteggere il viso Io uso una protezione solare SPF 50 Prodotto da Nuskin È un prodotto molto buono Non lascia la patina bianca Si assorbe subito Puoi anche truccarti sopra volendo Dura 24 ore E resistente all'acqua Quindi è un ottimo prodotto Se lo volete prendere Vi lascio il link qua sotto Sotto il video Se cliccate sopra Avrete uno sconto del 15% E veramente un buon prodotto vale la pena Buona giornata ragazze Ricordatevi di volervi bene E aver cura di voi